I fans di Fisichella vi salutano con questo striscione enorme e fisico tutto contento perché sono arrivati i suoi fans in macchina da Roma. Una soddisfazione personale ma che anche nei confronti dei miei amici, di tutti quelli che mi seguono qua in televisione del mio fan club, sono contentissimo, ho fatto una gara stupenda, direi che la gara è stata molto difficile ma ho guidato benissimo, sono stato tranquillo, il mio ingegnere mi ha detto una bugia, cioè che ero partito con poco meno di 100 kg di benzina e invece erano 115 kg, infatti vedevo che non mi chiamavano mai al box, la strategia è stata eccezionale, infatti forse quello mi ha fatto guadagnare questa quarta posizione, si è rotto il differenziale elettronico dopo una quindicina di giri, la macchina era molto difficile da guidare in accelerazione però nel veloce era un pochino meglio, quindi più o meno era la stessa cosa.